Ciao ragazzi, spero che le vostre vacanze stiano procedendo nel migliore dei modi noi siamo appena tornati dopo una settimana in Abruzzo con la bambina è stato molto bello, la bimba si è divertita, ci siamo rilassati e adesso siamo pronti per ricominciare le nostre vite ecco, vi dico subito che il libro di cui vi parlerò oggi è Chiamami col tuo nome, di Andrea Atsiman è stato pubblicato dalla Guanda Editori il libro ha 271 pagine e costa 17 euro io ne ho sentito tanto parlare sia su Anobi tra parentesi, su Anobi, io le ho dato 5 stelle, quindi il massimo secondo me è un libro bellissimo, adesso ve ne parlo e poi comunque sbirciando tra le altre video recensioni in rete avevo notato che era un libro di cui si parlava e allora mi ha incuriosito non poco e sono andata a recuperarlo se avete qualche consiglio oppure qualche libro di cui sentite tanto parlare che vorreste ma magari non trovate il tempo di leggere e vorreste sapere se ne vale la pena potete scrivermelo qua sotto che così io lo aggiungo alla mia lista e in tempi brevi magari ve lo leggo vi faccio la recensione così capite anche un attimino se vale la pena o meno ecco tornando a noi al libro in questione chiamami col tuo nome è la storia di Elio che vive in una casa vicino al mare con i suoi genitori ogni anno invitano una persona straniera a passare l'estate da loro questo in particolare di cui parla il libro è l'anno in cui arriverà Oliver Oliver è un giovane insegnante americano che non appena sceso dalla macchina comincerà ad attrarre in ogni modo tutte le persone a lui vicino questo cosa significa? che per le donne ha un effetto attrattivo istantaneo invece per gli uomini diciamo che rimangono comunque affascinati dai suoi modi di parlare dal suo modo di esprimere senza filtri quello che pensa Elio invece si scopre che avrà proprio una vera e propria attrazione per questo giovane insegnante comunque hanno una decina e passa di anni di differenza Elio inizialmente crede di non captare bene i segnali che Oliver gli manda perché Oliver rimane molto sulle sue inutile star qua a spiegarvi che i due finiranno per avere una storia una storia che però è destinata a concludersi perché comunque Oliver tornerà in America non sto a rivelarvi molto altro perché sostanzialmente questa è la storia il punto di forza di questo libro è il grande eroticismo che emana la componente erotica è molto sentita e anche se a leggere il libro è una persona che non ha nessuna attrazione verso le persone dello stesso sesso è evidente che è un libro al quale non si può scappare tra virgolette nel senso che viene descritta così bene questa attrazione è che ci sentiamo tutti attratti inevitabilmente da Oliver lo scrittore è così bravo a trascinarci dalla parte del punto di vista di Elio che ci sentiamo inevitabilmente attratti da ogni movenza di Oliver e stiamo anche noi a chiederci perché non ci guardi perché passiamo inosservato quindi questa è la grande forza di questo libro il fatto che ci fa sentire all'interno della storia e che comunque ci trasmetta a piene mani questa grande attrazione anche per i piccoli dettagli le movenze delle mani piuttosto che l'odore del corpo il costume che indossa in piscina sono tutte componenti che condurranno appunto Elio verso Oliver quindi io ve lo consiglio è una bella storia non è la solita storiella d'amore secondo me è molto più e qua siamo a un livello molto superiore è da tanto che non legge un libro così bello e che trasmette così tanto quindi super consigliato chiamami col tuo nome ecco questo è quanto questa è la mia lettura che ho terminato al mare a breve arriverà anche la video recensione di un altro libro che sono quasi riuscita a finire e quindi vi aspetto sempre sul mio canale e ci sentiamo presto ciao ciao